Ben trovati le notizie di oggi, mercoledì 4 di settembre. Concorrenza spietata e fuori legge sulle strade di Senigallia. Confartigianato Taxi denuncia la presenza di numerosi soggetti abusivi che senza licenza scorrazzano per la città, sottraendo clienti e incassi ai professionisti in regola. Una situazione inaccettabile, dice Luca De Gregorio, presidente Confartigianato Taxi Senigallia. Per ogni autista regolare ce ne sono almeno 4 fuori legge. Noi tassisti siamo in estrema difficoltà, chiediamo controlli e misure mirate ad arginare questo fenomeno. Tra pochi giorni si torna a scuola. Il servizio. La campanella sta per suonare per oltre 4.000 giovani alunni tra elementari e medie che il 12 settembre siederanno sui banchi delle scuole senigalliesi. Siamo a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico nella nostra città. Per quello che abbiamo potuto verificare durante l'estate, quest'anno è un anno che inizia in proseguzione con l'attività di grande qualità realizzata dai nostri istituti scolastici lo scorso anno. Non ci saranno grossissimi problemi organizzativi per le strutture scolastiche. Stiamo continuando con le nostre politiche di messa a norma delle istituzioni scolastiche. Quest'anno agiremo nella scuola primaria Cuccini. Non ci saranno problemi per i nostri bambini, i nostri alunni, perché c'è già un piano di lavoro che vede il trasferimento delle aule interessate presso il plesso della Mercantini, che è molto vicino alla scuola, e tutte le altre istituzioni scolastiche non hanno problemi di rilievo. Realizzeremo nei prossimi giorni una conferenza per comunicare anche i dati numerici dell'anno scolastico, ma siamo tranquilli e siamo anche coscienti e consapevoli che Senigallia, anche per quanto riguarda il suo aspetto didattico e la qualità della didattica, è una città di qualità e così vogliamo che continui a essere. Per cui un impegno dell'amministrazione per monitorare, sviluppare tutto ciò che mantiene questa qualità fondamentale per il futuro dei nostri figli. Lavoro e famiglia, questo è il tema di un seminario del Movimento Cristiano Lavoratori MCL che si terrà a Senigallia dal 5 al 7 settembre in preparazione della 47esima settimana sociale dei cattolici italiani a Torino. La mancanza di lavoro getta un'ombra di incertezza sulla vita familiare, rendendo impossibili decisioni a medio e lungo termine, ha ricordato il presidente di MCL, Carlo Costalli. International Self Publishing Festival, vediamo. È stato presentato l'evento International Self Publishing Festival che si svolgerà al Foro Anonario di Senigallia il 19 e 20 ottobre prossimi. Si tratta di un evento organizzato da Narcissus.me, la piattaforma di autopubblicazione digitale di Semplicissimus Book Farm. L'idea dell'International Self Publishing Festival è nata dalla constatazione che la realtà del self publishing sta rivoluzionando l'editoria e in particolare l'editoria libraria tradizionale. Col digitale tutti possono non solo scrivere il proprio libro ma farlo circolare e venderlo sulle principali librerie online così come i titoli pubblicati dagli editori tradizionali. Questo sconvolge le regole in campo. È ora di far incontrare tutti i self publisher per raccontarsi le proprie esperienze e per imparare a scrivere meglio e vendere meglio i propri libri. Giovani atleti continuano a crescere nella scuola Guenci che in pochi anni ha vinto titoli italiani, europei e mondiali. Il giovanissimo Filippo Moroni, da poco uscito dalla convalescenza, rientra in gara e vince subito nei 200 metri a Narni, gara valevole per la classifica Challenge Italia mentre la sua compagna di squadra, già vincitrice Asia Luciani, si deve accontentare questa volta del terzo posto. Tra il tennis tavolo Senigallia e il conservatorio Rossini di Pesaro sta per nascere una collaborazione scientifica. È stato Enzo Pettinelli a darne la notizia. L'idea di fondo, se trovasse il riscontro, sarebbe innovatrice perché ipotizza che un colpo eseguito correttamente determina un suono di un certo tipo. Quindi lo scostamento tra il suono prodotto da un colpo e il suo riferimento indicherebbe la correttezza o meno dell'esecuzione dando un parametro quantificabile all'allenatore. E sono 11 tante le edizioni per la notte dello sport, evento che rappresenta lo sport senegalese, un'importante tradizione, una vera e propria vetrina per le associazioni sportive cittadine e che andrà in scena dal pomeriggio alla sera venerdì 6 settembre. Ancora una volta lo scerario della Kermess sarà il foro annonario dove dalle 18.30 a tarda sera saliranno in passerella centinaia di atleti e dirigenti sportivi in rappresentanza delle 36 società presenti all'evento. È tutto, grazie per averci seguito, vi aspetto per l'edizione di domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS